Un saluto a tutti quanti voi, ai cittadini di Torcargano che vivono in Vico e ai cittadini vichesi che vivono al di fuori del nostro territorio. Ovviamente diamo il benvenuto ai turisti che verranno a visitare il nostro territorio, che verranno a visitare Vico e il Cargano, le nostre bellezze e che questo paese ovviamente non può che dare amore ai nostri visitatori. Cos'è per te Vico? Ma per me Vico è il paese dove sono nato, io sono nato a Vico e del Cargano quindi non può che esserci amore per questo paese perché lo ritengo la culla della cultura, della natura, della gastronomia, dell'amore che i cittadini danno a chi ci visita, ai rapporti amicali che si vivono, Vico e del Cargano è un tesoro tra il mare e la montagna, avrei infinità di cose da dire ma credo che sia un gioiello, non per questo sono il sindaco, quindi non posso che parlare bene. E cos'è per te San Valentino? San Valentino oltre ad essere il nostro patrone e protettore dei nostri abrumenti è ovviamente il nostro santo di riferimento per non solo l'aspetto religioso ma anche per l'aspetto turistico. A volte siamo un po' non rispettosi del santo ma credo che sia fondamentale valorizzare il nostro santo patrono che è il protettore anche degli innamorati e quindi non può che essere il protettore di tutti i cittadini e tutti gli innamorati del mondo. Un saluto a tutti ovviamente i cittadini michiesi e quelli che vivono fuori da Vico e del Cargano e tutti i turisti che verranno a farci visita nel nostro paese.